Titolo, Ombre sulla verità, la corsa contro il tempo. Il sole sorgeva sul giorno del funerale di Andrea Purgatorio, gettando un'aura dorata sul cimitero mentre amici, familiari e collegi si riunivano per dare l'ultimo saluto al rinomato giornalista e scrittore. Ma c'era un uomo tra la folla, un volto noto nel mondo del cinema e della regia, Marco Tullio Giordana. Il regista e amico di lunga data di Purgatorio avrebbe preso la parola durante la cerimonia per svelare un segreto che fino ad allora aveva tenuto gelosamente custodito. I due, infatti, avevano sviluppato insieme un progetto ambizioso per ben tre anni, una serie documentaristica che avrebbe tratteggiato un viaggio attraverso le origini secolari della mafia, fino ai giorni nostri, in un affascinante viaggio attraverso la storia italiana. La serie, inizialmente intitolata La zona grigia, doveva essere una combinazione unica di finzione e indagine giornalistica, con la maestria di Purgatorio nel presentare temi complessi e delicati. Una sensazione strana cominciò a pervaderli durante le fasi di sviluppo del progetto. Si sentivano intercettati, osservati, seguiti. Era un sentore inquietante, soprattutto considerando la natura delle inchieste che stavano conducendo e la fama di Purgatorio nell'esporre verità scomode. Nonostante gli incontri segreti e i tentativi di proseguire il lavoro nel totale riservo, la minacciosa sensazione di sorveglianza persisteva, come un'ombra sinistra che li accompagnava ovunque. La tragicamente prematura scomparsa di Andrea Purgatorio interruppe bruscamente questo promettente progetto. Il vuoto lasciato dalla sua mancanza fu tangibile nella comunità giornalistica e artistica, ma la storia che avrebbero dovuto raccontare rimase lì, nel limbo dell'immaginazione. Per realizzare questo audace progetto, Giordana e Purgatorio si erano dedicati a numerosi sopralluoghi in Sicilia, luogo simbolo della mafia, dove avrebbero raccolto testimonianze di magistrati, giornalisti e investigatori esperti. Ma qualcosa, a un certo punto, iniziò a scuotere le loro certezze. Anche nei momenti più privati, durante i loro incontri come amici, sembrava esserci qualcuno che li osservava da lontano. La paranoia e il senso di impotenza crescevano, ma la passione e la determinazione di entrambi nel raccontare una storia così importante erano più forti di qualsiasi minaccia nascosta. Decisero di continuare, di affrontare insieme le sfide che si presentavano. Ridevano della situazione, come per sfidare l'oscurità che li circondava. Avevano un obiettivo, una missione da portare a termine, e nulla li avrebbe fermati. Marco Tullio Giordana, con la voce rotta dall'emozione, si affacciò al microfono durante il funerale e rivelò la storia poco conosciuta di questo ambizioso progetto. L'intera sala ascoltava con attenzione, sospirando di fronte a una verità ancora più complessa di quella che Purgatorio avrebbe mai potuto svelare con la sua penna affilata. Da quel giorno, il progetto di la zona grigia rimase incompiuto, ma il ricordo di Andrea Purgatorio e del suo coraggio nel portare alla luce le verità scomode sarebbe rimasto vivo per sempre nei cuori di coloro che lo avevano amato e apprezzato per la sua straordinaria dedizione al giornalismo investigativo. E mentre il sole tramontava, lasciando dietro di sé un'ombra lunga e misteriosa, tutti coloro che avevano assistito alla rivelazione di Giordana sentivano che la verità, con tutte le sue sfumature, non può essere oscurata per sempre. L'eredità di Andrea Purgatorio sarebbe rimasta una nuceguida per coloro che continuavano a cercare la verità, non importa quanto fosse scomoda o rischiosa.